Taglio del nastro questa mattina per il nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Fiorenzuola riqualificato con la rimodulazione degli spazi esistenti e la creazione di nuovi ambienti. Da domani sarà attivo dalle 8 alle 20. All'inaugurazione ha partecipato fra gli altri anche Raffaele Donini, assessore regionale alle politiche per la salute. La ASL spiega che il progetto ha permesso di ridisegnare completamente il volto del pronto soccorso. È stato creato un nuovo spazio con un ingresso e un'uscita indipendente per i mezzi, diversamente da quanto avveniva in precedenza quando l'accesso era unico. La nuova disposizione ha consentito anche di realizzare un accesso pedonale dedicato, mentre prima i cittadini utilizzavano l'atrio principale dell'ospedale. Altra importante novità riguarda la realizzazione di un percorso indipendente per casi sospetti covid che accedono a un'area dotata di diagnostica dedicata. I cinque ambulatori sono stati tutti riqualificati e dove necessario dotati di nuove attrezzature. Il restyling riguarda anche tutti i locali di servizio e di attesa, compresi i bagni. Il nuovo pronto soccorso amplia inoltre la sua superficie complessiva da 750 a 1.100 metri quadrati. Il costo complessivo dell'intervento ammonta a 1.350.000 euro circa, di cui 210.000 relative all'acquisto e installazione della nuova diagnostica digitale di ultima generazione. Grazie a tutti.